Musica Formazione e sostegno di giovani agricoltori nella coltivazione di caffè e cacao sostenibili in Camerun è questo il contenuto del progetto New Generation che vede coinvolti l'Accademia Nazionale di Agricoltura ASICA, l'Associazione per gli Scambi Italia Camerun e il Consolato Onorario del Camerun. È un progetto che nasce in realtà da un incontro con l'amico Doriano Ponzi che è il vicepresidente della Camera di Commercio Italo Camorunense oggi è presente, ancora due o tre anni fa e l'Accademia a un certo punto parlando noi abbiamo deciso di seguirlo e seguirlo insieme a altri progetti internazionali che l'Accademia sta facendo. Devo solo fare una precisazione che l'Accademia Nazionale di Agricoltura avendo un nuovo statuto, il nuovo statuto etico che dà incarico al trasferimento della cultura agraria e delle discipline ad essere connesse per la salute dell'uomo l'Accademia sta svolgendo iniziative appunto verso paesi di altri paesi diciamo in via di sviluppo prima con l'Argentina, oggi appunto con l'Università di Villa Regina, oggi col Camerun io sono appena rientrato da un accordo con il governo di Santo Domingo noi non abbiamo nessun scopo di lucro ma semplicemente promuovere l'Università e le Università e la formazione dei giovani nel caso del Camerun è proprio riguardo la formazione dei giovani agricoltori che siano non semplicemente mano d'opera ma sia persone colte per produrre nuovi tipi, nuove varietà molto qualificate di cacao e prossimamente di caffè oggi questa iniziativa ha trovato la formazione di oltre 1500 giovani ognuno di quali ha avuto in donazione o in uso dal governo da 3-6 ettere secondo i risultati degli esami si devono obbligare un ettaro all'anno di cacao e la delegazione italiana di 18 imprenditori del settore si è recate e per Natale sono usciti i primi cioccolatini fatti da un metro al cioccolatie che è il Cramer, quello più famoso che abbiamo e hanno questi cioccolatini e sono stati venduti come camerunini e i proventi serviranno per fare un orfanatrofio in Camerun noi abbiamo fatto un po' come gli esimi catalizzatori tra due sostanze che devono dare un prodotto ora cosa riguarda? riguarda questo che il futuro, speriamo che sia un futuro non solo proficuo per il paese Camerun ma soprattutto importante anche per quello che possono essere gli scambi di questo materiale e quindi un uso industriale e possa essere un uso industriale anche per il nostro paese se questo avviene abbiamo raggiunto il primo obiettivo che l'età media degli agricoltori in Camerun è di 60 anni oggi con questi giovani non hanno 20 anni quindi abbiamo un certo ritorno al mondo agricolo in un paese dove l'urbanizzazione si sta sentendo anche lì e quindi credo che questo sia già un grosso ritorno finito questo ci potrà essere anche un ritorno e spero un ritorno di tipo economico perché in tutte le cose l'economia ci vuole ma riguarderà la Camera di Commercio italo-commerunense, gli imprenditori italiani e il governo cammerunense la piccola Accademia Nazionale di Agricoltura nata nel 1807 allora solo come Accademia poi dopo come Accademia Nazionale oggi sta aprendo i suoi orizzonti i suoi obiettivi ripeto, di formazione, di cultura, di trasferimento e verso paesi bisognosi credo che questo sia un esempio come si debba aiutare chi ha bisogno ma in casa propria, proprio per il proprio futuro per le proprie famiglie spero che questo possa essere un esempio molto positivo di quello che dovrebbe essere per me un trend di comportamento politico L'impegno della Camera di Commercio in questo progetto che vede la formazione di giovani agricoltori in cameron addirittura ventenni Sì, sicuramente un grande impegno la Camera di Commercio perché mentre facciamo cultura e mentre diamo alla nuova generazione l'opportunità di crescere nell'ambito di un progetto così importante c'è un altro aspetto che serve poi la comunicazione, la diffusione del prodotto che si va a generare quindi noi saremo un veicolo strategico perché poi a questi giovani possiamo dare l'opportunità di rendere fruibile quello che hanno fatto attraverso le loro attività e portare i prodotti anche in giro per il mondo soprattutto nello scambio internazionale fra il Cameron e l'Italia l'Italia e il Cameron ma non solo perché l'impegno della Camera di Commercio avendo delle relazioni anche internazionali può essere utile a rendere fruibile tutto quello che hanno imparato questi ragazzi Grazie